Da tragedia in due battute di Achille Campanile non era un ombrello. Personaggi il fungo, il fiorellino. La scena si svolge in un bosco, ai giorni nostri. Al alzarsi del sipario si vedono il fungo e il fiorellino, che è nato proprio accanto alla radice del fungo. Piove. Il fiorellino al fungo. Che bella cosa essere nato vicino a te, così tu mi ripari dalla pioggia. Ma dimmi, sei un vero ombrello o fungi semplicemente da ombrello? Il fungo. Fungo. Sipario.